Parto dalla sperimentazione clinica di medicinali che in particolare nel provvedimento riguarda tutta la parte dalla fase 1 alla fase 4. C'è da dire che l'indipendenza della sperimentazione clinica deve essere data dall'assenza di conflitti di interesse. Noi vediamo ancora una volta all'interno del provvedimento delle dichiarazioni di intenti ma su cui più volte in questa legislatura non si è dato seguito a effettive norme stringenti che garantiscano l'assenza di conflitti di interessi. Faccio un caso su tutti che era il caso Tamiflu. Il caso Tamiflu è stato oggetto di occultamento dei risultati delle sperimentazioni cliniche. Ebbene il Servizio Sanitario Nazionale si è dotato in previsione di un'eventuale pandemia di una grossa quantità di questo farmaco salvo poi scoprire che erano state occultate alcuni risultati relativi alla possibile non efficacia di questo farmaco. Quindi il sistema sanitario nazionale è rimasto con questo fardello inutile. Tutto questo era a norma di legge. Quindi una delle nostre proposte è l'abrogazione relativa alla confidenzialità e al segreto commerciale dei dati clinici che ovviamente riguardano l'autorizzazione e la fabbricazione e l'importazione dei medicinali. Occorrono criteri più stringenti in questo settore. Occorrono criteri più stringenti in questo settore.